Le opportunità che l'Università Mediterranea offre sono veramente tantissime e soprattutto sono finalizzate a favorire la possibilità per gli studenti di scegliere il corso di laurea che meglio si attagli alle loro inclinazioni e alle loro aspirazioni. Qui possono trovare davvero tutto quello che vogliono, tutto quello a cui aspirano per un futuro di emancipazione e di realizzazione. Nella nuova offerta formativa l'Università continua ad essere a passo con i tempi e aggiorna in modo sostanziale numerosi corsi di studio. Si aggiorna l'asse di economia e si istituiscono e attivano due nuovi corsi di laurea magistrale di durata piennale nell'area di pedagogia e nell'area del design. Questi corsi completano il percorso degli studi e gli studenti in queste aree. Inoltre continuano ad essere attivi numerosi servizi degli studenti e si attivano nuovi servizi disponibili e attivi nel nuovo anno accademico. L'Università continua ad essere a passo con i tempi e aggiorna l'offerta formativa in base anche alle esigenze delle scuole, del territorio e delle parti sociali. Grazie a tutti.